Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra nica, si vedete già il manico che qua cade e tutto il mio sciacchettino bello pienino, il mio bel sciacchettino di stoffa perché sono stata da Kik, allora sono stata da Teddy l'ultima volta che avete visto che avevo preso qualcosina di Halloween, qualcosina di Natale che aveva già iniziato ad arrivare e ho detto stavolta voglio andare a fare un giro da Kik perché era un po' che non ci andavo e poi vedo sempre video che comunque tanti trovano le cose a 10 centesimi, tutte robe belle scontate io ho trovato qualcosa di carino e me lo sono scraffignato subito, l'ho preso subito pensavo di trovare di più però vabbè adesso vi faccio vedere tutto quello che ho trovato sempre roba cartopazzolosa, forse tranne due cose che non sono cartopazze però vi faccio vedere tutto tutto tutto, comunque sapete che Kik qua dalle mie parti per chi è di queste zone non lo sa, si trova ad Almine vicino al Tigotà e niente c'ha sempre cosine comunque che costano poco ecco adesso vi faccio vedere, bando alle ciance, ho il sacchettone bello ecco, facciamo vedere così veloce, è bello pienone allora prima vi faccio vedere le cosine che non sono cartopazze dai ho preso questi due, è burro cacao a 1,99 euro sì perché è il primo prezzo, anche qua è come Teddy, bisogna stare attenti al prezzo ecco, vedete sempre guardare e uno dovrebbe essere la vaniglia e l'altro Kik, non lo so non lo so, comunque è tutto che uno, vuole già mia figlia, non so quale adesso vabbè, vedremo e non li apro perché non lo so ma sì dai vediamo oh mamma mia che buono un po' più vaniglia questo, buonissimo sentiamo invece questo che cosa sembra ciliegia non sbaglio ma che buono è mmm sono veramente buoni eh bene dai due bei burro cacao adesso arriva la stagione fredda non la voglio però vabbè d'altronde eccola e poi altra cosina vi faccio vedere quello che ho speso semmeno ho speso 17 euro sì certo dove vado 17,95 euro e questi prima non ho guardato se avevo inquadrato bene aspettate un attimo ecco insomma il burro cacao sono questi uno e uno 1,99 euro tutte e due hanno un profumo buonissimo all'interno però non sono neanche colorati niente sono proprio bianchi ok adesso bando alle ciance vi faccio vedere le altre cose che non sono cartopazzose e sono uno e due cioè io quando li vedo li prendo il 35 al 38 io ho il 38 spero mi vadano bene credo di sì questi costano un euro e sono due paia di calzini perché lasciarli lì io poi adoro anche i calzini aspettate che butto via queste cose qua perché mi danno un fastidio li perdo sempre in giro io poi allora apriamo anche questo c'erano anche quegli unicorni infatti ero tentata a prenderli però costavano un po' di più allora credo che questi siamo un euro aspettate che anche qua c'è questo coso qua che mi sa antipatico uffi aspettate così anzi non tiriamo perché sennò magari si fa il buco perché poi fa un disastrino io allora uno e due e voilà insomma uno fatto così questo bel azzurrino con i cuoricini insieme a questo grigio con i cuoricini poi di qua c'è questo tutto a righine rosa ma che meraviglia non vedo l'ora di metterli e questo col gattino dai carino mi piaceva non l'ho detto un euro due paia è buono con due euro ho quattro paia di calzini perciò non è per niente male la cosa adesso ho tante cosine cartopattese però prima vi faccio vedere questa che non potevo lasciargliela lì pagata un euro come vedete ed è questa scatolina qua io non so cosa ci andrò a mettere dentro magari qualche cremina la nella mia postazione beauty vedete che ho il manichino e mi piaceva sì è di cartone un euro però ho detto dai fammela prendere che ci metto dentro qualcosa mi piaceva con cuoricini rosa chiaro ho detto prendi la mica e mettiamoci dentro i calzini in tante così guardate eccola qua poi adesso andiamo con la carrellata di così un po' creativo un po' cartopassioso ecco infatti prima vi faccio vedere questi che avevo già preso l'altra volta che poi li provi anche da taglia però qua costano un euro allora li ho presi questi fiorellini qua tutti luccicosi nel viola fucsia verde insomma sono carini non hanno l'adesivo questi invece quelli di taglia hanno detto l'adesivo però io tanto uso sempre la colla a caldo per quando li utilizzo perciò benvengano e poi ho preso anche questi a un euro che sono fiori in feltro e sono nel verde nell'arancio nel giallo in questo bel verde ottagno e ho pensato di comunque per farvi capire volevo fare delle clip e magari attaccarci con la colla a caldo questo vedete perché non sono rifiniti qua sono proprio preintagliati e basta così a fiore però in mezzo non c'è neanche il pistillo le cose appunto quello che c'è e attaccarci questo esce una meraviglia fare la clip è bellissimo perciò ho detto li prendo anche se ne avevo alcuni ancora però beh li uso sempre perciò non è che sono debuttati via no perché li uso poi altra cosina a un euro questi cioè non potevo lasciargli lì questa meraviglia ci vado a fare le clip anche con questi e sono queste nuvolette kawaii guardate che belle che sono sono in legnetto ci sono appunto quattro così con la faccina e quattro così glitterate no che meraviglia sono troppo belle no 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 dovevo prenderle assolutamente perché sono meravigliose un euro eccole qua anche per lo scrapbook anche da mettere attaccatele dove avete voglia insomma queste cose la creatività poi ho preso ho trovato gli unici due set di paper tape uno è questo e questi qua li ho pagati 59 centesimi come vedete qua non so se si vedrà mai mettere a fuoco sono tre per tre metri e non è male 59 centesimi solo che dopo non ce ne erano altri dopo c'è un altro set allora uno è questo di set dove c'è questo bel verdino con queste sagome qua disegnate questo che non è tutto azzurrino è un po' tutto sfumato e questo qua glitterato e sono carini dai e poi l'altro è questo sempre a 59 centesimi ma erano unici due che c'erano poi non so ogni quanto riassortiscono lì non lo so non capisco neanche con Teddy non riesco mai a capire quando riassortiscono perché tante volte vado c'è qualcosa tante volte vado trovo poco non lo so questo invece ha quello dorato questo un po' così con questi disegnini bianchi qua sotto lo sfondo rosa e questo qua con questo appunto inserto in foil che ah sì scusate così è la faccia di un leopardo o un ghepardo comunque si capisce ecco ed erano carini e ho detto vabbè li prendo dai gli unici che c'erano che ho trovato aspettate che adesso svolto tutto il sacchettino così metto qua in parte tutte le cose e faccio sparire il sacchetto di là poi ho trovato ha un'altra decorazione che andrò a fare delle clip lo attaccherò anche sullo scrap sono questi cuori qua gommoloni sono sticker sono sei però sono di stoffa adesso li apriamo un attimino anche questi qua li ho pagati un euro vi faccio vedere sono sulla sua carta e vedete sono adesivi sono meravigliosi questi ma questi qua mi sa che vado a metterli sullo scrap bellissimi aspettate mettiamoli qua così poi ho preso sticky notes l'unico che ho trovato però questi li ho pagati un euro e cinquantanove era carino dai si apre così e poi qua c'è i to do tutto da scrivere sapete che io adoro anche sticky notes sticker sticky notes divento matta tutte quelle cose qua ed era fucciosissimo ho preso poi non ho trovato le card di solito c'erano le card lì non ho trovato non ho trovato no 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 poi vi faccio vedere a un euro non potevo lasciargli la questa meraviglia non c'è gli unicorni però c'è l'arcobaleno quando c'è l'arcobaleno sembra sempre di vedere unicorni però costava un euro e allora ho detto lo prendo c'è dentro parecchia robettina andiamo a vedere c'è aspettate si si l'ha travisto tutto però vi faccio vedere bene nel dettaglio c'è il temperino col serbatoio che viene sempre buono rosa normale questa gommina con l'arcobaleno il righello che viene sempre buono che io tante volte li rovino i righelli perché parecchie volte li uso col cutter e tante volte si sfregiano vabbè e questo qua è bellissimo guardate con la donuts ciupacciups la ciliegina i cuoricini e l'arcobaleno bellissimo e poi le due matite guardate che meraviglia con l'arcobaleno e queste nuvolette nuvolette arcobalenosi e la donuts sempre qua in fondo bellissime con la sua gommina è un bel set per un euro non è male aspettate spostiamo così poi facciamo una bella cosa così ho preso queste penne un euro e cinquantanove sono tre sei sette otto c'è anche scritto qua dovrebbero essere tutte blu c'è scritto così almeno due me le porto al lavoro ok adesso ve le faccio vedere wow hanno il tappo ruvido che belle che bei colori qua il verde il giallo allora andiamo a vedere un attimino vediamo se abbiamo qua un fogliettino andiamo a scrivere e vediamo questa ah c'è è fatta come la Bic però blu normale infatti c'è scritto penna blu mica però e scrive anche bene dai e io me ne porto una per colore al lavoro le altre poi qui poi ogni tanto servono anche a mia figlia sempre le penne blu insomma non è che vanno mai a male qua e poi erano troppo pucciose a un euro non potevo lasciargli lì queste cioè guardate il tappo tiffa nel tappo rosa poi che sono i colori che mi piacciono una cifra sono bellissime guardate che dottoria anche questo e poi ultime tre cosine ma non da meno è l'unica roba gli unici sticker carini che mi piacevano che ho trovato adesso ve li faccio vedere sono uno un euro ma guardate si vi spara flasherà tutto in faccia però adesso ve li faccio vedere ve ne apro solo uno perché è un foglio non è dentro non è che ce ne sono due di fogli però sono un po' trasparenti però sono tutti un po' questo olografico qua e sono ah sono belli rigidi non so se si sente qua appiccicano logicamente e sono adesivi sono bellissimi ho preso questo con le farfalle perché ce ne erano vari tipi c'è anche quello con le macchinine non l'ho preso perché non mi piaceva ho preso questo con le farfalle e sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici dodici farfalline tra piccole e grandi fatto così poi ho preso questo con questi draghetti che mi piacevano da piccolina guardavo chi ha la mia età penso che si ricorda grisù voglio fare il pompiere io quando l'ho visto mi è venuto in mente grisù non chiedetemi come mai però giustamente è un dinosauro è un draghetto non un dinosauro scusate è un draghetto allora ho detto ma che bello è è bellissimo anche questo tutto sparaflesciante tutto luccicoso sono carini questi stiche dai un euro e poi l'ultimo ed era l'unico unicornoso che ho trovato e non potevo lasciargli guardate che meraviglia che è l'unicorno sulla luna l'arcobaleno la nuvoletta le stelline poi guardate che puccio è peccato che c'è dentro solo un foglio però guardate che bello che è anche questo è l'unicorno poi vi ripeto c'era quello con le macchinine che mi piaceva poi non so se c'erano altri tipi io l'ho visto solo questi perché vi dico c'era gran poco però non potevo cioè veramente ho trovato delle cose veramente carine dai trovo sempre qualcosina io poi da acquistare figurati pensavo di trovare un pochino più paper tape washi tape altri sticker altre cosine nei scatoloni da 10 centesimi pensavo di trovare anche qualcos'altro però vabbè poi c'era già fuori qualcosa del Natale ma non c'erano paper tape washi tape c'erano due o tre stickerini ma non mi piacevano tanto e niente vabbè dai io spero di avervi tenuto compagnia anche con questo altro haul che la vostra pazza della nica ha fatto creativo cartopazzo chiamatelo voi ci avete voglia a voi calzinoso chiamatelo come avete voglia niente scrivetemi nei commenti io sono qua pronta a rispondervi vi love a tutti e grazie di seguirmi sempre e fatemi sapere voi nel vostro chic se sapete ogni quanto magari riassortisce ogni quanto butta fuori cose ogni quanto butta le cose nei cesti non lo so perché io ogni volta che vado una volta ho trovato tante cose che ho preso tanti wash la prima volta che ci sono andata avevo trovato tanti paper tape tutti scontati li avevo presi su tutti adesso invece niente non lo so dopo quanto come tedi non riesco mai a capire vi ripeto come vi ho letto prima ogni quanto riassortiscono ogni quanto non lo so quanto mettono fuori le cose perché ogni volta che vado c'è un giorno che trovo un giorno non lo so è un casino niente fatemi sapere nei commenti io sarò qua pronta a rispondere vi love a tutti ciao dalla vostra nicchia ciao nicchini ciao 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 ciao